Musica Benvenuti a questa edizione in diretta dello ISTG in apertura dopo decine di virus para-influenzali che hanno messo già a letto con la febbre centinaia di migliaia di italiani ora è la volta dell'influenza vera che è entrata ufficialmente in Italia come sempre accade dal nord e che si stima possa colpire dai 3 ai 5 milioni di italiani abbiamo in diretta il professor Fabrizio Pregliasco, virologo per parlarci del primo caso di isolamento di virus influenzali della stagione 2013-2014 Allora professore, buongiorno, che novità ci sono quest'anno? Lunedì è stato isolato a Triestere il primo virus della stagione influenzale si tratta ancora di casi sporadici, quindi la vera influenza come sempre a questo punto ce l'aspettiamo e come previsto da Natale in poi perché questi primi casi per essere poi diffusi e evidenziati a livello generale necessitano un po' di tempo Il primo virus è il virus H3N2, uno dei tre attesi e ci aspettiamo a seguire anche ancora la presenza del virus H1N1 quello della suina di qualche anno fa, degradato a virus stagionale ma che ancora infastidirà insieme a un altro virus di origine americana questi tre virus dovrebbero dare, salvo variazioni nella stagione, una dimensione complessiva di 4 milioni di casi di soggetti colpiti e questo dipenderà anche dall'andamento delle temperature se farà più freddo, il freddo rimarrà rigido per più tempo, allora i casi potrebbero andare oltre a questa previsione in questo momento ci sono soprattutto ancora forme simili influenzali dovute agli altri virus adenovirus, crinovirus, coronavirus che vedono questo momento di sbalzi termici ancora per loro facilità l'influenza appunto invece, come dicevamo, arriverà quando il freddo sarà più intenso e continuativo Bene, grazie professore, grazie per il collegamento e cambiamo argomento il decreto sulla terra dei fuochi va in Parlamento ma è già norma da oggi così il Premier Enrico Letta parla delle disposizioni per curare le piaghe nell'area tra Napoli e Caserta strumenti e mezzi in più a disposizione delle forze dell'ordine e dei magistrati a cominciare dal primo articolo e cioè l'introduzione del reato di contribuzione illecita dal primo articolo e fino alla fotografia dello stato dell'arte sui suoi contaminati per distinguerli da quelli sani, ancora l'accelerazione delle bonifiche oggi i roghi tossici di rifiuti sono sanzionabili soltanto con contravvenzioni con questa norma vengono a disposizione sanzioni penali disposte è previsto il carcere dai 2 ai 5 anni nel caso l'incendio riguardi i rifiuti pericolosi la pena della reclusione sale da 3 a 6 anni parliamo di sanità frontiera aperte per le cure sanitarie presto infatti sarà possibile curarsi anche in un altro Stato membro dell'Unione Europea ottenendo rimborso del costo sostenuto ad aprire la strada della cosiddetta Schengen sanitaria ovvero la sanità trasfrontiera è il decreto di ricepimento delle direttive Unione Europea in materia approvato dal Consiglio dei Ministri che ha contemporaneamente dato il via libera anche al ricepimento di un'altra direttiva dell'Unione Europea che porterà un giro di vita alle vendite illegali di farmaci online due le direttive che regolano la Schengen sanitaria la 2011-24 concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria trasfrontaliere la 2012-25 che prevede misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche messe in un altro Stato membro con l'intervento proposto si sottolinea il comunicato del Governo si conferisce al tema della mobilità sanitaria internazionale un impulso senza precedenti attraverso l'eliminazione di ostacoli che impediscono ai pazienti di curarsi in altri paesi dell'Unione Europea viene inoltre precisato che saranno considerate solo le strutture pubbliche o che operano per il pubblico e quanto ai costi la direttiva prevede che siano i pazienti a dover anticipare il costo delle cure e solo successivamente potranno chiedere rimborso al proprio Ministero della Salute il riborso inoltre avverrà le condizioni e nei limiti stabiliti da legislazione dello Stato di appartenenza dell'assistito pistola, manganello e spray al peperoncino si arricchisce all'arsenale a disposizione delle forze dell'ordino contro i malintenzionati con un'arma che blocca l'aggressione minimizzando il rischio di colluttazioni e ferite da gennaio parte infatti la sperimentazione dello spray ritante che sarà affidato in prova ai poliziotti del reparto volante della Polfer di Milano nonché ai carabinieri dei riparti operativi di Roma e Napoli sono esclusi per ora i reparti mobili il che significa che non è previsto l'uso della manifestazione di piazza il via libera al capsicum è stato dato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza al termine di una serie di verifiche fatte ad un apposito gruppo di lavoro in questi giorni gli spray urticanti saranno consegnati a poliziotti carabinieri che verranno addestrati all'uso con la collaborazione di personale medico della Polizia e specialità cliniche dedicate alle principali patologie femminili ma anche percorsi diagnostici, terapeutici e servizi dedicati sono le caratteristiche che hanno consentito a 200 strutture di ricevere il bollino rosa come ospedale a misura di donna riconoscimento conferito dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna a 65 strutture è andato il massimo riconoscimento 105 ne hanno ricevuti 2 e 61 mentre menzione speciale è andata a 12 ospedali che da 2007 a oggi hanno sempre ricevuto 3 bollini le migliori performance si registrano in Lombardia con 63 strutture premiate a seguire Veneto e Lazio rispettivamente 23 e 21 ospedali rosa ma ha spiegato Walter Ricciardi che è presidente della commissione interdisciplinare che ha valutato le strutture che comincia ad esserci buoni piazzamenti anche al sud quindi il programma comincia ad avere una rappresentazione nazionale di fenomeno per l'edizione di quest'anno ha proseguito l'esperto abbiamo adottato un nuovo sistema di valutazione con criteri più specifici guardando la qualità e la specificità dell'offerta nei confronti delle donne in particolare è stata inserita la neonatologia come area specialistica di interesse con specifico riferimento alla nascita prematura mentre la neurologia è stata integrata con una sezione dedicata alla sclerosi multiple patologia cronica tipicamente femminile allevato impatto invalidante ecco e come vedete sulla nostra scrivania del telegiornale torna Natale con l'AIL la solidarietà, la tradizionale iniziativa dell'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e il mieloma l'appuntamento con la solidarietà come ogni anno è da venerdì 6 a domenica 8 dicembre la manifestazione posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica realizzata grazie all'impegno di migliaia di volontari vogliamo ricordare che scenderanno in piazza con le piantine eccole qua delle stelle di Natale che saranno offerte a chi verserà un contributo associativo minimo di 12 euro ogni piantina sarà caratterizzata come potete vedere dal logo eccolo qui dell'Associazione nei 24 anni precedenti questa manifestazione ha permesso all'AIL di raccogliere fondi che sono stati destinati alla ricerca e all'Associazione e anche all'assistenza ovviamente e ha contribuito a far conoscere i progressi della ricerca scientifica dei tumori del sangue non è un caso infatti che l'evento si presenta con lo slogan ogni malato di leucemia ha la sua buona stella perché è anche grazie ai fondi raccolti attraverso le stelle di Natale che l'Associazione riesce a sostenere i progetti di ricerca scientifica perciò un semplice gesto, un versamento di minimo 12 euro e anche voi contribuite alla ricerca scientifica per i malati di leucemia per far sì che questa malattia nel tempo diventi sempre più curabile e non come succedeva una volta che era sicuramente destinato il malato al decesso molti progressi sono stati fatti proprio grazie al volontariato e grazie all'aiuto di tutti coloro che credono nella solidarietà questa era l'ultima notizia, questa è la nostra edizione dello YesTG l'appuntamento per domani ancora per una nuova edizione in diretta buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci buon proseguimento con i nostri programmi